Sicuramente buone perché volevamo uscire con consapevolezza dalla pool e sicuramente dobbiamo acquistare più continuità in quello che facciamo perché in tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sempre o in progressione entrando con qualità dentro la partita in maniera sempre più incisiva oppure l'abbiamo fatta a tratti quindi credo che il margine di miglioramento della squadra sia lì. Le abbiamo studiate questa mattina ancora non abbiamo fatto video con le ragazze però è una squadra che ha un buon cambio palla e gioca una palla a volo molto rapida e il cambio palla credo che sia il loro punto di forza e noi dovremo fare sicuramente il nostro lavoro in cambio palla e poi mettere tutto il nostro peso in fase break. Sì i ragazzi stanno bene oggi facciamo un allenamento vero visto che poi è un po' che non ci alleniamo di squadra e oggi spingeremo in allenamento per recuperare tutte le sensazioni giuste per domani.